Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi si ritorna finalmente con la Serie B di Futsal E si va dove? Si va a Fucecchio per assistere a quella che sarà la 24esima giornata del campionato di Serie B di Futsal Si si va ancora in Toscana Questa sarà l'ultima volta in cui andremo in Toscana E poi chiaramente ci sarà un'ultima trasferta stagionale Adesso noi entriamo come sempre in macchina Risponderemo alle vostre domande E andiamo verso il Tedo Eccoci dunque in macchina Siamo in direzione del Tedo Dove Fabio si riunirà con i suoi compagni per andare verso la Toscana Verso Fucecchio Noi adesso come sempre risponderemo alle vostre domande Andiamo con la prima domanda da parte di Curumani Domanda per Fabio Ma quanta pressione provi ogni partita? PS Antimo sei simpaticissimo Grazie mille Curumani Ti si vuole bene Allora Fabio quanta pressione provi? Ma in realtà non tanta Cioè sono abituato Io non so se si riferisca più alla partita in sé o al video In entrambi i casi Cioè sono abituato Già dal calcio che l'ho fatto da quando ho 7 anni Quindi ormai sono abituato Una partita che ti ha messo un po' più di pressione ci sarà pure stata no? Beh nel Futsal non ho trovato nessuna partita particolarmente Che mi mettesse pressione Non lo so Forse un po' più le prime Perché era un po' una prova Era un po' mettermi alla prova Forse più nel calcio ci sono state occasioni in cui ero sotto pressione Ovviamente ne provini su tutte Andiamo adesso con la seconda domanda da parte di Luca Roversi Com'è il rapporto con gli arbitri? Vedo che lasciano correre molto Anche contatti che nel calcio a 11 sarebbero certamente sanzionati Questo dipende molto dall'arbitro La scorsa giornata sicuramente erano arbitri che lasciavano molto correre Ovviamente c'è un diverso peso sul fiscare un fallo Visto che dopo 6 falli c'è il tiro libero Quindi sicuramente le squadre fanno più attenzione a non fare falli E gli arbitri fanno un metodo di giudizio un po' diverso Andiamo con la domanda di No Capito Prima di tutto complimenti a Fabio e i suoi fratelli Bravissimi Volevo farvi una domanda Secondo voi per i cambi è meglio il sistema del calcio a 5 o calcio a 11? Nel senso che nel futza si può entrare e uscire nel calcio a 11 no Solo per curiosità ancora bravissimi Beh intanto grazie mille Secondo me non c'è un sistema migliore o peggio dell'altro Il sistema del calcio a 5 è adattato al modo di giocare Quindi c'è bisogno di più sostituzioni Di prendere fiato diverse volte Quindi sì secondo me sono adattati ai due diversi sport Sì poi certo comunque nel calcio a 11 diciamo che magari ci sono più momenti di pausa Anche per i giocatori stessi in campo Mentre nel calcio a 5 è molto lavoro sull'intensità Tanto lavoro magari in più poco tempo Quindi questo può portare ad avere una gestione dei cambi diversi Ci sta Andiamo con le domande da parte di Riccardo Zanardi Ciao Fabio, Francesco e Antimo Io vi seguo da un bel po' Siete fantastici video spettacolari Grazie Una domanda Come ti senti con la squadra? E poi che rapporto hai con il mister? Ultima Hai mai giocato contro il futza Monirella? Se sì è forte? Buona fortuna e buona Pasqua a voi Grazie mille anche a te per i complimenti Con la squadra ho un buon rapporto Veramente sono un gruppo fantastico E quindi mi trovo benissimo Sia con i compagni che con il mister Sicuramente un mister molto di esperienza Ho ancora molto da imparare Comunque mi fa piacere essere in questo contesto E con questo mister Con il futza Monirella non ci ho giocato Loro fanno la serie D Comunque una volta sono andato a vederli Visto che c'è un mio amico che ci gioca Marcello Sisti Marcello Sisti Che ho fatto l'intervista Ciao Marci Adesso a questa domanda rispondere a te Antimo, domanda molto difficile Di Jacopo Costanza Ma ok Abra Calaia non è più del balza Ma si può sapere almeno che fine ha fatto? Svincolato? Allora no Quanto so io Che sono molto amico con Nick Lui praticamente ora è ancora vincolato al balza Lo sarà fino a fine stagione Poi si svincolerà e deciderà cosa fare È anche vincolato col calcio a 11 Quindi insomma non può andare da nessuna parte Né con uno sport né con l'altro Quindi staremo a vedere che fine farà Al termine di questa stagione appunto Domanda di Mario Forestieri Per chiudere Una domanda per Fabio Il prossimo anno continuerai con i futsal O tornerai a giocare a 11? Un saluto siete fenomenali Grazie mille Non voglio chiudermi in nessuna strada Però per ora sono molto improntato Verso il continuare con il calcio a 5 Almeno per ora Mi sta piacendo molto come sport E vorrei provare a migliorare ancora di più Prendere sempre più minutaggio Fare gol e divertirmi Arrivati ad Altedo Sei carico bro? Sì Quali sono le tue vibes per questo incontro? È nato prima l'uovo o la gallina? L'uovo Vediamo appena ci avviciniamo a cultura Intellettualità Sti vi caccavalle Facciamo domande di un certo calibro Anche a Fabio Cioè ero proprio Scusami ma tu Qui siamo in 2007 oggi Mamma mia Sei svegliato Cristo Arte, cultura, intellettualità Cos'altro? Se non Steve Che ora sembra anche Jesus Il terzo giorno è resuscitato Secondo le scritture È lì, è lì Le massa bactani Dio mio, Dio mio Perché mi abbandono? Come ti senti post Resù Resù Risuscitamento Com'è post-resuscitazione? Post-resuscitazione Ma sai cos'è l'acciacco? Perché la caverna De pietra Sai Fa un po' male All'ombare Adesso sto radunando gli apoccoli Abbiamo San Giuseppe San Benze Da Israele Protettore dei dislessici Eccolo bimbo Noah Quello segna Questa è una production Te lo dico qua Eccoci quindi arrivati al palasport Di piazza San Drupertini Qui ci sarà la partita All'incirca tra un'oretta e mezza Non siamo appena arrivati Adesso ci prestiamo ad entrare dentro Nel palazzetto Andiamo Andiamo Eccoci finalmente all'interno Del palasport di piazza San Drupertini Per assistere a quella che sarà La ventiquattresima giornata Del campionato di Serie B di Futsal Vigor Fucecchio-Balza Sì eccoci quindi pronti Ad assistere a questa giornata La Serie B di Futsal Oggi la partita è molto interessante Tra due squadre Che sono lì in classifica Solo tre punti di distacco Tra la Fucecchio e il Balza Entrambe le squadre Sono in un periodo comunque Abbastanza negativo Vediamo se oggi riusciranno A risollevarsi Eh sì Fred Sicuramente entrambe le squadre Non stanno vivendo Un periodo di forma eccelso Infatti sono tre Le sconfitte di fila Per la Vigor Fucecchio Seppur si affrontate Le formazioni più forti Di questo campionato Ovvero Olimpia Region Bologna Atlante Grosseto Quindi oggi vedremo Anche se ci sarà Una reazione da parte dei Toscani Sì un discorso analogo Comunque si può fare Anche per il Balza Che ha perso Gli ultimi due match di campionato L'ultima contro il Futsal Prato Per 4 a 1 Vediamo se oggi Abbassando anche un po' La sticella Riuscirà a portare a casa Una buona prestazione E anche magari tre punti Vittoria dal 4 di marzo Nella vittoria interna Per 5 a 4 Contro la Mattagnanese Sì tra l'altro Ricordiamo Il putteggio dell'andata Finì per 7 a 2 Per il Balza In quell'occasione a Bologna Vediamo se oggi Il Balza riuscirà A mantenere lo stesso esito Tra l'altro Andò a segno anche Conti Che non riesce a trovare gol Dal 4 febbraio Tra l'altro La vittoria del match di andata Fu la prima vittoria Di Fabio Nel mondo del calcio a 5 Nel mondo del Futsal Prima citava anche I capocannonieri Allora andiamo a dire Qualcosina in più su di loro Come sappiamo Il capocannoniere per il Balza È Roby Conti Con 22 gol stagionali Dall'altra parte Mustapha Biaset Che ha trovato 14 retti Nel corso del campionato Adesso andiamo a mettere A posto l'attrezzatura E prepariamoci L'assistere a questo match Di Serie B di Futsal Tra l'altro Fra è una cosa Che non abbiamo ricordato Prima in fase di presentazione Della partita Che quest'oggi manca Sia Pozzi squalificato Che il Caimano Che Ettore Fadiga Il dottore Quindi in Balza Rimaneggiato E tanti giovani Eccoci qua pronti Per assistere L'ingresso in campo Delle due squadre Per raccontarvi Quella che sarà La 24esima giornata Del campionato di Serie B di Futsal Vigor Fucecchio Balsa Vediamo l'assistere Questa partita Che chiaramente Mette in mostra Due squadre Più o meno dello stesso livello Vediamo come se la caveranno I ragazzi di Andrej Anche perché l'avversario Comunque oggi Magari un po' più alla portata E vediamo appunto Anche come si comporterà Fabio E se oggi comunque Potrebbe essere anche riservato Una maglia da titolare Vediamo Intanto seguiamo L'ingresso in campo Delle due squadre Una cosa che c'è da ricordare Frecchia Oggi tra le file del Balza Sono presenti tantissimi giovani Ricordiamo l'ingresso Di Francesco Romano 2004 Andrea Simone 2005 Noah Bulgarelli 2007 Quindi vedremo anche se Sarà riservato un minutaggio Particolare per loro O meno Sì sicuramente Comunque è interessante La scelta di portare Tanti ragazzi giovani In panchina C'è sicuramente anche Spazio sperimentazioni Data la situazione in classica Intanto vediamo Conti Al sorteggio Per decidere pallo campo E vediamo se comunque Anche oggi Il capitano del Balza Riuscirà a sfornare Una buona prestazione E magari anche a trovare Il gol che manca da un po' Eh sì frè Robiconti Superbike Non trova la rete Dal 4 di febbraio Da più di due mesi Come ricordavamo Anche nel pre partita Detto questo Ricordiamo anche Le assenze importanti Nella squadra di Baricella Ma anche il dottore Ettore Fadiga Ivan Pozzi E il caimano Ayman Maizi Assenze sicuramente importanti E intanto Scorre la classifica E inoltre salutiamo Anche Emanuele Fogli Presente qui in tribuna Con noi Sì tra l'altro Ricordiamo che L'Arpinova giocherà Con la Reggio Un partita molto difficile Questa chiaramente Potrebbe anche Permettere al Balza Di trovare punti A posizione in classifica E comunque di cercare Anche di magari Ipotecare quello Che potrebbe essere L'ottavo posto in classifica Che sarebbe sicuramente Un buon obiettivo Per la prima stagione In Serie B Assolutamente Intanto Foto di gruppo Per ricordare questo momento E sembra ormai Tutto pronto All'inizio Di questa partita Andiamo a leggervi Le formazioni Che scenderanno in campo Partiamo dal Balza Che schiera Di Bitonto in porta Davanti a sé Come ultimo Ferrante Laterale destro Mordacci Laterale sinistro Conti Capitano E come pivot Simone Dalla parte opposta Invece troviamo Frizzi in porta Davanti a sé Come ultimo Patetta Laterale destro Randazzo Laterale sinistro Grancioli E come pivot Broetto E intanto Ecco Fabrizio Simone Pronto a battere Il calcio d'inizio Di questa giornata Che avviene ora Giocando la pala All'indietro Per Ferrante Da questi a Mordacci Ancora il 24 Uno sguardo attorno a sé Cerca una soluzione Tra le linee Il prof Poi decide di tornare indietro Lo fa Con la collaborazione di Conti Da questi a Mordacci Davanti a sé A Patetta Lo sfida il 29 Alla meglio Poi il 14 E che si porta a casa Anche un fallo laterale prezioso Adesso Broetto In mezzo al traffico Torna indietro da Patetta Da questi a Randazzo Dunque Grancioli Prova ad avanzare Sempre il numero 7 Torna sempre a destra Dove trova Un puntuale Randazzo Che torna da Grancioli Cerca l'imbucata Capisce tutto Fabrizio Simone Che prova a ripartire Attenzione Simone Tutto solo Contro Frizi Simone La paratona Del numero 12 avversario Che con la mano a sinistra Esorcizza il pericolo Adesso rimesso in gioco Proprio per il capitano del Balsa Che va da Ferrante Che torna sempre dal 7 Prova ad avanzare Superbike Poi va dal prof Che cerca Il numero Subroetto Poi torna indietro sempre Dal punto saldo del Balsa Robiconti Mordacci Bello Lo sto poi intanto di Simone E far fuori Patetta E poi il tiro Parato ancora una volta Da Frizi E adesso seguiamo La ripartenza Della Fucecchio Con Simone a terra E adesso Simone mette Meglio Conti mette la palla in out Intanto rivediamo Quello che è successo prima Rivediamo il controllo orientato Di Simone Fantastico Perché si mette Perfettamente per cacciare Anche in questo caso Ottimo riflesso Da parte del portiere Poi si è fatto male Simone Che è partito anche lui Molto bene Secondo me in questa partita Ha avuto due grandi occasioni Però entrambe Non facili da realizzare Intanto Fabio Sembra pronto a fare Il suo ingresso in campo Usufruendo magari Anche di questo Piccolo infortunio Di Samuel Mordacci Infatti entra proprio Al suo posto Entra ora Fabio Di Mauro Esce Samuel Mordacci Vediamo Come si approccerà Del balza Rimesso in gioco Sempre per la Fucecchio Con Patetta Che va da Grancioli Parte il tiro E arriva il gol Di Davide Grancioli Dodicesimo in stagione Tutto solo Ha fatto un gol Da casa sua Un gol da lontanissimo Si è tirato molto bene Collo pieno Colpisce il pallone La palla finisce dritta Nell'angolino Al lato destro Di Di Bitonto Che rimane fermo In questo caso Forse viene a partire Anche tardi Però sicuramente Il tiro è ottimo E porta avanti La Fucecchio Grancioli Bella la collaborazione Con Patetta Rivediamo qui Dal replay Forse Fabio Poteva uscire Prima sul set In ogni caso Ha tirato davvero bene Un missile Terra aria Il capitano Della Vigor Fucecchio Si sicuramente Un bel gol Forse è vero Fabio in questo caso Arriva con un pizzico Di ritardo Su Grancioli Però ci sono anche Tanti meriti Alla parte numero 7 Questo è sicuro Adesso Patetta A rimettere ordine Per i suoi Va a scucchiaiare Per Martini Tutto solo Contro Di Bitonto Bravissimo Di Bitonto Qui a rimanere in piedi E poi con una spaccata Riesce a recuperare il pallone Poi adesso Ancora Patetta E sta facendo Una grandissima partita Dalla parte opposta In difesa E ora Simone Sbaglia il passaggio Attenzione alla possibile Ripartenza Se ne scatta da Castellaccio Infastidito da Rientro di Ferrante Che commette Un'infrazione di gioco Fallo Per il 24 Che dice Non l'ho toccato Non è dello stesso avviso Il direttore di gara Sul punto di battuta Sembra andare Lorenzelli Vediamo se poterà Per uno schema Invece va Lorenzelli Dimitonto In due tempi Riesce a arpionare la sfera E prova a far ripartire Subito il balza Con Fabio Stop orientato Troppo lungo Da parte dell'11 Capisce tutto Frizzi Che agguanta la sfera E riparte Con l'aiuto di Ammannati Da questi a Lorenzelli Ammannati Ancora il numero 5 Va a scucchiaire per Castellacci Buono lo stop orientato Dell'otto Attenzione Tutto solo Va con la punta del piede destro Di Bitonto E poi Toschi E ora Fusca Che va da Ferrante Da questi a Toschi Ancora il profil 24 Uno sguardo attorno a sé Va a servire Proprio il numero 2 Dennis Fusca Che guarda Toschi L'inserimento del 14 Fusca preferisce andare a sinistra Da Fabio La forbice Su Ammannati Ancora Fabio 1 contro 1 Col 5 Fabio parte il tiro E arriva il gol Il gol dell'1-1 Da parte di Fabio Di Mauro Terzo in Serie B Settimo in stagione Il gol del pareggio Eccolo qui Si è sbloccato E ora non si ferma più Sì bellissimo questo gol È vero che c'è stata la diviazione Però è bello quello che fa prima Come si libera E come si crea lui Lo spazio per calciare verso la porta Ottimo comunque Il tentativo e la giocata Poi sicuramente la diviazione Influisce particolarmente sul gol Beffa il portiere sul primo palo Però sicuramente Nel complesso Si può comunque ritenere un bel gol Eh sì sicuramente La diviazione provvidenziale Come rivediamo anche ora L'intenzione di Fabio Bella anche la personalità Nel calciare in porta È un gol importante A livello psicologico Quello dell'1-1 Perché il balza Non riusciva a trovare il gol Nonostante quanto stesse producendo Adesso seguiamo Ferrante che va subito da Fabio Non sto perentato dell'11 Frizzi Miracoloso Ancora su Fabio Che voleva la doppietta Forse la doppietta più veloce Della storia del futsal Rivediamo qui ora dal replay Si una bella giocata Da parte di Fabio Che se ne va via Con il controllo orientato Riesce a crescere lo spazio Per la conclusione È molto bravo anche in questo caso Il portiere Frizzi Che copre tutto lo specchio Risponibile a Fabio E non riesce così Il numero 11 A trovare La propria doppietta personale E il gol del vantaggio Per il balza Secondo te Avrebbe potuto anche scartare Qui Filippo Frizzi No Penso che comunque Fosse molto difficile Adesso sarebbe Troppo facile Parare Del fatto che fosse più facile Saltare il portiere Però sicuramente Era la cosa più difficile Ha fatto secondo me bene A calciare Non è riuscito a trovare Lo spazio giusto Per trovare il gol Ma ha tanti tanti meriti Al portiere Adesso vediamo anche Le indicazioni del prof A Fabio Adesso Martini Gira un buon pallone Per Poggini Da questi a Rovella Duella con Fabio Che si va a riprendere Il pallone Ripiegamento difensivo Poi viene un po' ostacolato Da Fusca Dunque Poggini Ammannati Cerca la verticalizzazione Per Rovella Capisce tutto Ora Denis Fusca Che prova a sprintare Il fallo Di Francesco Martini Qui forse Potrebbe esserci anche Il cardino giallo Il primo della partita No Il direttore di gara Lascia proseguire Adesso Semplice calcio di punizione Per il balza Adesso Conti Che vada Fabio Martini L'oppressa Dunque Fabio torna Da Fusca Da questi acconti Cerca L'aiuto di qualcuno Lo trova in Fabio Che sguscia su Martini Poi vorrebbe L'1-2 col pivò Che non c'è Perché viene incontro Toschi Ma adesso seguiamo La ripartenza Di Martini Che si allunga Il pallone troppo Oltre la linea bianca Rimessa in gioco Per il balza E adesso sostituzione Esce Fabio Ed entra Samuel Mordacci Mentre Fusca Revoca la calma Calma che non c'è stata Sicuramente negli ultimi Frangenti Come reputi intanto La prestazione di Fabio Appena uscito Ha fatto una buona partita Fabio fino ad adesso Chiaramente È palese anche Visto che ha realizzato Il gol del pari Però in generale Ha fornito comunque Delle belle giocate Come ad esempio Quella che abbiamo visto Sulla fascia destra Sta giocando bene Comunque anche in fase difensiva Forse magari un pizzico Di responsabilità sul gol Ma sicuramente Non il principale colpevole Si alza Simone Poi Conti Toschi Il dribbling su Patetta Poi Rovella Si va a riprendere Il pallone di prepotenza Prova a ripartire Ora il numero 10 Che va a servire a sinistra Patetta E Fabrizio Simone Ancora una volta Deciso e decisivo Il ripiegamento difensivo Adesso vediamo Il prof Ferrante Che gioca la palla Indietro a Conti Che fa esplodere il destro Non inquadra Lo specchio della porta Superbike Che però Quando carica Il suo piede Lo fa Nella maniera Più pericolosa possibile Adesso Mordacci Rimesso in gioco Per il balza Sempre il 29 Che chiama in causa Sempre Conti Da questi a Divitonto Che va lunghissimo Ora a cercare Ferrante di testa La parata di Frizzi Bella l'invezione Qui tra Divitonto e Ferrante Che hanno ricordato un po' Il gol visto Contro la San Giovannese Però non sono riusciti Questa volta a replicarlo Adesso Attenzione Randazzo Che vada Castellacci Ancora Randazzo Torna indietro per Patetta Che carica il destro Lo prova Ferrante rinviene su di lui Poi Mordacci Si allunga un po' il pallone Capisce tutto Patetta Che vada Castellacci Carica il destro E arriva il gol Di Castellacci Il terzo in stagione E adesso Torna nuovamente In vantaggio La Vigor Fuccecchio Forse un Divitonto Non perfetto qui Complice Il vantaggio Dei padroni di casa Fabio che doveva entrare Già Da qualche minuto Entrato ora Con La nuova situazione Di svantaggio E adesso Bella la solata Di Robiconti A profiziare Ferrante Da questi a Fabio Almeno idealmente Capisce tutto Castellacci Che prova a ripartire Poi la pressione Del numero 11 Sull'otto avversario Che costringe La Vigor Fuccecchio A perdere il pallone Dunque Ferrante Prova a ripartire Con Superbike Robiconti Che carica il destro Una volta Lo carica due Patetta bravissimo Ripiegamento difensivo E poi il solito Castellacci Che va da Randazzo Da questi a Broetto Non arriva Sulla linea di passaggio Disegnata dal numero 13 L'11 Della Vigor Fuccecchio Dunque rimessa in gioco Ora per il balza Sì in questo caso Broetto ha cercato La via centrale Cioè ha cercato di inserirsi Per via centrale Non è stato trovato Con una palla esterna Intanto vediamo Adesso attenzione Fabio L'invenzione Forbice Esterno E poi cercare Mordacci Il mister gli dice È difficile Fabio È difficile Però insomma L'idea sicuramente È molto bella Si ha tentato Una giocata molto simile Con l'Olimpia Regium Forse un po' più lontano Sì Ha questo tipo di giocata Fabio Forse ancora un po' troppo Ragaccio 11 Perché è difficile Fare spazi stretti Però bella giocata lo stesso Adesso bello Il numero di Fabio Su patetta Disegna Fuzz al Fabio Che va da Mordacci Frizzi con il petto Fabio s'allarga Fusca lo vede Lo va a servire Proprio ora Poi l'attacco Di Iambroetto Fabio se la cava Tornando all'indietro Giocando poi la sfera Conseguentemente a Ferrante Che sfida Ora Randazzo Ferrante si sposta la palla Sul sinistro Attenzione Ferrante Fine fondo Esterno della rete Ancora una volta Per il 24 Il punteggio ancora 2-1 per la Fucecchio Lei capisce tutto Ora Frizzi Che poi Va a sua volta Da patetta Da questi a Martini Il destro Ancora di Bitonto E poi Attenzione perché non è finita Mordacci così e così Mette un po' In pericolo il balza Se la cava di Bitonto Dunque Ferrante Dalla parte opposta Per Fusca Dentro per Mordacci Castellacci La palla è sulla linea La tiene Frizzi Incredibile Quello che stiamo vedendo Azioni da una parte E dall'altra Adesso Iambroetto Lo sprint su Ferrante Fa fuori secco Il numero 24 Il palo interno La palla rimane lì Ancora Broetto Che la gestisce Dunque Martini Castellacci Si sposta la palla sul sinistro Ferrante se la va a riprendere E provo ora a ripartire Con la collaborazione di Toschi Che va da Fabio Che non riesce a uncinare Un pallone Apparentemente anche facile Da poter controllare Per un giocatore come lui Ma adesso rivediamo Da replay Il palo di Broetto E poi dopo Forse l'avrebbe potuta Rendere prima La palla Al numero 15 L'11 Così non è stato Meglio per il balza Adesso seguiamo Frizzi Che va da Patetta La pressione di Fabio Patetta cerca di cavarsene Se la cava bene Con l'aiuto di Martini Ancora il 14 Poi il numero Su Fabio Che Usa troppo le mani Per il direttore di gara Dunque fallo Ferrante su Martini Si beccano un po' i due Poi Patetta Va a servire Broetto Che dialoga Col numero 15 La Vigor Fucecchio Che torna l'indietro Da Frizzi Quando manca ormai Un secondo di gioco Verticalizza Frizzi Per Castellacci Ma suona la sirena Finisce ora Il primo tempo E si conclude Col punteggio di 2-1 Per la Vigor Fucecchio Bellissima partita Fabio in grande spolvero Però il balza è sotto Eccoci alla fine Del primo tempo Dei primi 20 minuti di gioco Effettivi Il punteggio dice Vigor Fucecchio 2 Balza 1 Un Fabio in grande spolvero Questo oggi Sicuramente il migliore In campo del balza Ma dici qualcosa in più tu Sì sicuramente Fabio sta facendo La sua buona partita Penso che in generale Sia una partita Molto equilibrata Anche molto gradevole Da vedere Vediamo se poi Nel secondo tempo Cambierà un po' l'esito Se anche il balza Riuscirà a tirar fuori Un po' più di concretezza Però comunque Si possiamo essere soddisfatti Per quanto visto da Fabio Forse un po' meno Da quanto visto dal balza Potrebbe fare anche Il secondo gol Nella ripresa Secondo te Penso che i presupposti Comunque ci siano Non è sicuramente scontato Però comunque La giornata potrebbe Essere positiva Per portare Chissà la doppietta E speriamo che il balza Riesca a ottenere anche punti Punti che mancano da marzo Detto questo Noi possiamo andare dentro Col secondo tempo Sì noi ci prepariamo Al secondo tempo Visto che le squadre Stanno già tornando in campo Diamo spazio E spettacolo Ai prossimi 20 minuti di gioco Bentornati nella ripresa Per seguire assieme Quella che sarà La reazione del balza In questi secondi 20 minuti di gioco effettivi Seguiamo l'ingresso In campo delle due squadre Vediamo anche Fabio Che prende piede Sul parquet Del Palaspor Di piazza Sandro Pertini Di Fucecchio Ecco ora i protagonisti inquadrati Fre Cosa ci dobbiamo aspettare Per questo secondo tempo? Sicuramente ci aspetta Un secondo tempo interessante Anche per quelle che poi Magari potevano essere Aspettative di questo match Il balza si trova sotto E deve sicuramente ripartire Con uno spirito Anche un po' diverso Cercare anche di più Di ritrovare quelle Che comunque erano stati I buoni primi minuti di partita E adesso Riprende ora il gioco Col calcio d'inizio Affidato a Lorenzelli Che gioca l'indietro Adesso riparte La Vigor Fucecchio Con Castellacci Che cerca la verticale Verticale che non riesce Dunque deve tornare Con la collaborazione Del numero 2 Capisce tutto Ferrante Che prova a ripartire Ferrante carica il destro Palla ampiamente a lato Ci ha provato il prof Ripiega molto bene In fase ripensiva La Vigor Fucecchio Ma adesso seguiamo Conti Che va da Simone Da questi ammordacci Battaglia un po' in mezzo Al traffico Poi la palla è sempre In possesso del 29 Gli è la sradica via Ora Castellacci Che prova a ripartire Con l'aiuto di Amannati Da questi a Lorenzelli Carica il destro E arriva il gol Il 3-1 Per la Vigor Fucecchio Il primo gol In Serie B Di Fuzzal Per Lorenzelli Classe 2006 Che consolida Ora il vantaggio La formazione di casa Porta a più 2 Da Vigor Fucecchio Si bello il gol Ha chiuso benissimo In questo caso Sul secondo palo Incrocia bene E qua Sicuramente circostanza Particolarmente difficile Conti tra l'altro Perde anche un po' L'equilibrio Questo favorisce Una migliore conclusione Per battere di Bitonto E per trovare il 3-1 Mirko Lorenzelli Si presenta così E adesso Mister Veli Mirandreic Ha qualcosa da ridire Con di Bitonto E manda a scaldare Steve Caccavale Bello ora l'abbraccio Tra Amannati e Lorenzelli Coloro che hanno costruito La trama di gioco Vediamo ora Ferrante Che duella con Amannati Ferrante va dentro a Simone L'aria apre lui Fabrizio Simone Secondo gol consecutivo Balza a meno 1 Sesto sigilo stagionale Per Fabrizio Simone Ma il gol E' tutto del prof E' tutto di Gianluigi Ferrante Si bravissimo Ferrante Ma comunque Simone si merita questo gol Per la prestazione che sta facendo Bravo anche lui A cercare e a trovare La zona sul secondo pallo Che era libera Bravo Rivediamo ancora una volta Ferrante che si crea lo spazio Per mettere questa palla in mezzo Simone da lì Non può e non deve sbagliare E trova il gol del 3-2 E adesso Meno 1 Per il balza Che reagisce subito Era importante a livello psicologico Intanto il guizzo di Mordacci Si perde sul fondo Rimessa in gioco In favore dei padroni di casa Rimessa affidata Alle manone di Frizzi Che va ora da Amannati Che cerca di verticalizzare Verticale che non riesce Perché nel momento Dell'impatto col pallone Il piede Sinistro va a sbattere Contro il destro O meglio La palla Ora Ferrante va dentro Da Mordacci L'invenzione del prof A propiziare il 3 pari Samuel Mordacci Quinto centro in serie B Ma ancora una volta lui Ancora una volta il prof A disegnare traiettorie Sul parquet Del palasport Sandro Pertini Ancora una volta Bravissimo Ferrante Che dopo aver propiziato Il gol del 2-3 Riesce a trovare anche così Con l'aiuto di Mordacci Il gol del 3 pari Ed è molto bravo Perché prima Quasi illudere la difesa avversaria E giocare questo pallone dietro E poi invece Trova un diagonale perfetto Per servire Mordacci Sul secondo palo E trovare il 3 pari Adesso seguiamo Martini Che vada Poggini Poggini cerca di girarsi Conti frana su di lui Tutto però Ai limiti della regolarità Secondo il direttore di gara Poggini Polemica Ancora Da parte Di tutta la panchina Anche della Vigor Fuccecchio Con l'arbitro Adesso vediamo Il numero 5 a Mannati Che vada Martini Da questi a Poggini Che torna sempre dal numero 15 Uno sguardo al centro Va a servire ora Grancioli E arriva il nuovo vantaggio Della Vigor Fuccecchio Con Davide Grancioli Doppietta per lui quest'oggi 13esima rete in campionato E ancora più uno Per i padroni di casa Sì bello a questa occasione Questa opportunità Che si è creata la Vigor Fuccecchio Che riesce a trovare il gol del nuovo vantaggio Il gol del 4 a 3 con Grancioli Vediamo qui Ibitonto esce sul numero 15 Martini Lascia la porta libera Conti prova a coprirla Però non basta Per evitare il gol Del nuovo vantaggio Per i padroni di casa Intanto entra ora Fabio Di Mauro Esce Samuel Mordacci Con la 29 Cambio usuale Adesso un po' di polemiche Col prof Che si va a riprendere la palla A seguito del non passaggio Da parte di Poggini Per il prof Si lamenta un po' al 24 Che va ora a servire Robiconti e Superbike Da questi a Toschi Uno sguardo attorno a 6 Va da Fabio L'11 torna sempre da Giacomo Toschi E arriva il gol Di Toschi Il gol a ristabilire le gerarchie Un anno e mezzo dopo l'infortunio E' tornato a segnare E' tornato Toschi Ed è arrivato anche il primo assist In Serie B di Fuzzal Per Fabio Di Mauro Si bello questo gol Da parte del balza Bravi entrambi Ma in generale tutto il balza A costruire un'ottima manovra Però sia Toschi che Fabio Riescono a costruire con questa triangolazione Lo spazio giusto Per battere Frizzi E trovare di nuovo La parità Grandissima partita Bellissimo match E ora è 4 pari Quando mancano ancora 16 minuti E 9 secondi di gioco Partita comunque rimane in equilibrio Così da una parte e dall'altra Adesso Ferrante addomestica Un pallone difficilissimo Poi punta il numero 5 a Mannati Ancora Ferrante La forbice esterno Sinistro La parata Ancora una volta di Filippo Frizzi Robiconti Va da Toschi Da questi a Ferrante Che sfida a Mannati La sovrapposizione di Toschi Ferrante prova ad andare dentro Poi litiga un po' con il pallone Rovella solo va a riprendere Ma Conti Molto bene in fase difensiva Riconquista un'altra Sfera preziosa Carica il tiro Respinto da Rovella Poi ancora Conti Mette ordine per Toschi Dentro per Fabio Bellissima la traittoria Del 14 per l'11 Fabio C'era anche andato Un po' Troppo poco convinto Però Ancora Conti Superbike Uno sguardo davanti a sé Cerca l'imbucata Impedita da Grancioli Poi a Mannati di testa Ancora Grancioli Buca l'intervento Capisce tutto Fabio Che va da Toschi Da questi Ancora al numero 11 Lo aggredisce Grancioli lo fa fuori secco Fabio che va dentro da Ferrante Attenzione la palla Rimane lì Rovella Decisivo Ma qui bellissima La giocata di Fabio E Ferrante per poco Non trova un gol Che avrebbe sicuramente meritato Grancioli Va lunghissimo A servire Rovella Buca l'intervento Conti Attenzione Rovella Contro Di Bitonto Rovella Si divora La rete del vantaggio Per Evigor Fucecchio Qui ha un passo Davvero da trovare la rete Di Bitonto Che innesca Sempre il numero 11 Che va ora da Ferrante Che torna da Fabio La parata Incredibile di Frizzi Ma attenzione Perché non c'è un attimo di respiro Prova a ripartire subito La Evigor Fucecchio Con Patetta Che cerca la verticale Ora per Grancioli Che tira ora in porta Di Bitonto E poi Ferrante Allontana Adesso Conti prova a andare A destra Dove ha lasciato spazio Fabrizio Simone Va da Fabio Che cerca di tornare sempre da Conti Patetta ancora una volta Difensivamente mostruoso Il 14 Nella Evigor Fucecchio Ma adesso seguiamo Grancioli Che va da Broetto Che va al sinistro Deviato ancora una volta Da Fabrizio Simone Che in fase difensiva Davvero non lascia passare Nessuno Intanto esce ora Fabio Di Mauro Entra il fratello Di Fabrizio Simone Andrea Simone con la 8 Adesso Fabrizio Simone Va dal fratello Andrea Che fa fuori Subito Frizzi La palla rimane lì Attenzione ancora Andrea Che gioca ora La sfera all'indietro Per Conti Che carica il sinistro Prova ora a giocare Il pallone dentro Non riesce Perché Rovella Devia la sfera E poi con la collaborazione Di Patetta riparte Poi Simone Adesso Andrea Che va da Mordacci Carica il destro La palla rimane lì Ancora Andrea Simone Cerca il destro La parata miracolosa Di Frizzi Che tiene il punteggio Sul 4 a 4 Vicinissimo Al gol Andrea Simone Broetto Che va da Randazzo Verticalizza bene per Rovella Da questo ancora Broetto La solata su Simone Il sinistro Di Bitonto Ancora una volta Strepitoso A salvare il risultato Si bella parata Della partita di Bitonto Che in un primo momento Cade anche lui Sulla finta Di Broetto Poi comunque riesce A ritrovare La propria posizione E a parare comunque Quello che poteva essere Il gol 5 a 4 E adesso ancora Calcio d'angolo Per il Fucecchio Fidato A Patetta Che va da Rovella Ancora Patetta Torna indietro Ora proprio da Iambroetto Che cerca la verticale Per Randazzo Capisce tutto Andrea Simone Adesso seguiamo Ferrante Che tira la palla addosso Proprio a Iambroetto Rimesso in gioco per il balza Adesso Ferrante È un 2 contro 1 Ferrante il prof Gioca la palla per Mordacci Ferrante tutto sul centro Va Mordacci Alato Si divora La rete del 5 a 4 Ora il balza Adesso seguiamo Patetta Che cerca L'imbucata per Rovella Che va al mancino di prima La palla simile Il palo E si perde sul fondo Broetto Prova a sprintare L'1 contro 1 Contro Toschi Poi si va a riprendere La palla Chi Se non il prof Che prova a ripartire Per l'ennesima volta Prova a sprintare Ad Aregas Poi perde la sfera E poi Se la va a riprendere Sul Randazzo Che partita Di Gianluigi Ferrante Che genera anche L'ammunizione Ora Per il numero 13 Randazzo Frizi Va lunghissimo ora Per Broetto Suo l'attacco A favorire Martini Che va al destro Di Vitonte E spaccata Gli dice di no Adesso Buono L'attacco di Conti Su Broetto Che si va a riprendere Un altro pallone Dunque Ferrante Il movimento del 24 A favorire il 14 E arriva il gol Di Giacomo Toschi La doppietta personale La decide forse lui Ma è ancora lunghissima Vedremo Come si comporterà Ora il Balsamo E' un gol di certo Importantissimo Si perché Balsamo Va per la prima volta In questo match in vantaggio Lo fa ancora una volta Con la rete Nel numero 14 Di Toschi E come detto E bravo anche Ferrante Perché gli genera lui Questo spazio Attaccando Lato destro E poi Toschi va su quello sinistro E cerca E trova il gol Il 5-4 E da questa inquadratura Da replay Si vede benissimo Quanto è ancora importante Il movimento Di Gianluigi Ferrante Il prof Che anche se questa volta Non ha fatto assist Ha fatto fare gol A Giacomo Toschi Che poi è stato bravissimo Comunque nel ritagliarsi Lo spazio necessario Però troppo tempo per lui Adesso ammannati Grancioli Cerca la verticale Per Broetto Duella con Ferrante Da questi a Martini Ferrante una volta Ferrante due volte E poi seguiamo Fabio Che cerca ancora Ferrante E poi ancora Fabio Bravissimo Qui Grancioli Ripiegamento difensivo Forse sarebbe potuto andare Anche da solo Qui il numero 11 del Balsa Adesso un po' di confusione Rimessa in gioco Per il Balsa Il numero 24 Riparte Martini Che va da Broetto Il dialogo tra i due Fabio in spaccata In scivolata Riconquista la sfera Anche con la collaborazione Di Fabrizio Simone Attenzione la palla è lì Adesso duellano un po' Fabrizio Simone Francesco Martini Poi L'arbitro dice Che è calcio d'angolo Fabrizio Simone dice Ma come Adesso ancora una volta Conti A impedire l'accesso Del pallone A Broetto Intanto la palla Ora è uscita Rimessa in gioco Per Ravigo Adesso seguiamo Broetto Che buca l'intervento Poi Va subito lunghissimo Di prima Dimmi tonto Ma il direttore di gara Dice che la palla è uscita Dunque sarà calcio d'angolo Quando mancano 10 secondi di gioco Alla fine Vediamo Cosa combinerà Il numero 13 Che va all'indietro Da Ammannati Grancioli Cerca il tiro di prima Capisce tutto Conte Attenzione La palla è buona Conti E arriva il gol Di Superbike 70 giorni dopo Arpinova Ritorna a trovare La via del gol E vediamo tutta l'esultanza Di Roby Conti 23 stagione 22 in campionato E a 5 secondi dalla fine Trova anche lui La gioia personale Gol comunque importante Perché chiude il match Chiude qualsiasi possibilità Della Fuccecchio Di trovare il pari E lo fa Con un gol sicuramente Favorito dalla porta incostruita Però comunque non facilissimo Perché si defila un po' E riesce comunque a trovare il gol Del 6 a 4 Importantissimo per lui Anche sotto l'aspetto psicologico Eh sì Sicuramente un gol importantissimo Sotto il piano psicologico Ma altrettanto un gol meritato Perché la prestazione di Roby Conti Superbike Ecco quest'oggi è davvero grandioso Ha giocato in un ruolo non suo L'ha fatto egregiamente Ora intanto Martini Rimette il pallone in gioco Ma è finita Suona la sirena Il balza è spugna Il palaspor di Fuccecchio Finisce 6 a 4 per gli ospiti Una partita super Sì Abbiamo trovato Abbiamo visto ben 10 gol All'annata ce ne sono stati 9 Quindi abbiamo visto Come Virgo Fuccecchio Balsa Garantisca sempre dello spettacolo Oggi partita molto intensa Entrambe le squadre Hanno giocato per me Una buona prestazione Si è conclusa Con il risultato di 6 a 4 Favorire il balza Il punteggio finale dice 6 a 4 per la formazione di Baricello Una bellissima partita Improntata sull'aggressività Sulla tenacia Entrambe le squadre Non hanno mollato Fino all'ultimo secondo Poi Roby Conti ha trovato Anche la rete Un urlo liberatorio Il suo a seguito del gol E poi ha chiuso definitivamente L'incontro Sì sono contento comunque Per Conti Si è idea che questo gol Ci teneva molto a farlo Bella l'esultanza In generale Il balza secondo me Se la stava un po' complicando Questa partita Perché ha dimostrato comunque Di essere secondo me Superiore all'avversario Primo tempo comunque Per queste ultime giornate Su Fabio invece Si penso che comunque Fabio aveva fatto una buona partita Impreziosita da anche Il suo primo assist stagionale Oltre che il terzo gol Il terzo gol comunque Molto bello Anche se c'è stata la deviazione Concettualmente mi è piaciuta molto La giocata che ha fatto Poi anche l'assist Comunque di lucidità In generale si buona la prestazione Forse dopo l'assist È un peletto calato Però in generale Nulla da dire Mi è piaciuto molto Noi adesso andiamo a sentire però Il parere dei protagonisti Partiamo da Samuel Mordacci Eccoci nel post partita Con Samuel Mordacci L'autore della rete del 4 a 4 Che poi dopo ha dato il via Al successivo vantaggio del balza Come hai visto la partita dal campo Ti aspettavi che sarebbe stata Più facile Più difficile Come è stata per te la partita? Innanzitutto Era una squadra Non da sottovalutare Anche se era sotto di noi Era abbastanza ostica Secondo me Perché loro erano a meno 3 Volevano assolutamente vincere Quindi noi dovevamo stare attenti A non farci sorprendere E cercare di fare risultato E non farci riprendere in classifica La partita è stata molto aggressiva Più che tecnica tattica Però con i singoli Si è riusciti a tirarla su E combattere e vincere la partita Tra l'altro oggi hai trovato Il tuo quarto gol in stagione Se non sbaglio Si Quest'anno è andato un po' così Gioco o non gioco Cerco di dare l'aiuto alla squadra Mi buonate il risultato Poi io se viene il gol Bene Cerco di migliorare Sono ancora un ragazzino di 20 anni Quindi imparo dai più grandi E dal mister ovviamente Qual è l'obiettivo del balza Secondo te da ora a fine stagione Considerato anche che ora La matematica Non dà più la speranza al balza Di accedere ai playoff Era ormai settimana Che cerchiamo a meno Di raggiungere i playoff Però è importante rimanere Sotto le prime squadre Siamo subito noi Siamo ottavi Però comunque Abbiamo fatto una buona stagione Con molti ragazzi giovani Quindi cerchiamo di dare sempre il massimo Va bene Adesso manca un due partite Ormai cerchiamo sempre di fare risultato Cerchiamo sempre di fare più punti Che fa sempre buon umore E aiuta la squadra Prossimo anno resti al balza Sì direi di sì Ormai sono uno di casa Quindi rimarrò a lungo E cercherò di imparare questo sport Che per me è nuovo E quanto tempo fai calcio a 5? Ah ho fatto un annetto Poi è venuto il covid E mi sono bloccato Sono tornato a calcio a 11 purtroppo Perché eravamo in Serie C Non giocavamo Poi dopo il mister Mi sembra la dirigenza Ha voluto che io tornassi Adesso sto ancora imparando lo sport È molto difficile Molto tattico questo sport Però sto ancora imparando E speriamo di impararlo Il più presto possibile E giocare di più Allora noi ringraziamo Samuel Mordacci Per l'intervista che ci ha concesso Grazie mille Samuel Grazie a voi Fantastico e complimenti per il gol Alla prossima Eccoci nella nostra usuale intervista Post partita a Fabio Innanzitutto Fabio complimenti per il gol Il tuo terzo in Serie B Il tuo settimo in stagione E c'è da sottolineare che oltre al gol È arrivato anche il tuo primo assist in Serie B Quindi un traguardo importante Molto bene nel primo tempo Molto bene fino al momento dell'assist Dopo sei stato un po' imperfetto in uno contro uno E ti sei divorato la rete del 5-4 potenziale Cosa ne pensi? Sì concordo Sicuramente la parte difficile è stato Giocare così tanto tempo E poi si è visto a livello di lucidità Che ho fatto fatica E ho sbagliato molto Nel secondo tempo Quando sono entrato La seconda volta Non sono abituato a giocare così tanto Mi ha fatto molto piacere Comunque mi piacerebbe iniziare a prendere sempre più minutaggio Come ho fatto oggi Rimpianti per il potenziale secondo gol mancato Sì Non per un'occasione in particolare Ma per la somma delle diverse occasioni sprecate E adesso passo il microfono a Fre Che andrà con le sue domande Sì non è possibile che un campo Con quelle calcio a 5 scriccoli in questo modo No Sì diciamo che è vuoto sotto Quindi Non è normale sto suono Eccoci quindi anche con le mie domande Hai giocato comunque una buona partita Ti faccio subito Una domanda abbastanza difficile Pensi che questa sia stata la tua migliore partita E se no qual è stata? È difficile adesso pensarci Non direi che è stata la migliore questa Però adesso non ricordo tutte le partite Una domanda che molti ti faranno anche nei commenti Ma com'è possibile che nel primo gol Non si è visto un accenno di esultanza? Ti stai già abituando? Non lo so forse non l'ho esternata Ma interamente ho esultato molto Ok ok Comunque ho fatto così Non l'ho visto Non l'ho visto Dobbiamo rivederlo ragazzi Dobbiamo rivederla Così Questa è una grandissima esultanza Inercepibile Insomma il fatto della paga esultanza Deriva anche dal fatto che comunque Il primo gol Era sull'1-1 Partita apertissima Manca ancora tanto tempo Quindi secondo me Non c'è tanto da esultare Ma c'è da continuare Un gol conta relativamente diciamo Certo Allora rimanevamo sull'0-0 Che discorso No 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 Ma cosa stai dicendo? No vabbè Felice per il gol Però c'è tutta una partita intera davanti Certo Quello stai dicendo Questo certo Quindi comunque diciamo Che l'assist è stato più pesante Più importante secondo te Anche poi nell'esito Hai sentito di più anche il livello emotivo? O meno? Forse sul momento sì Ero molto più felice per quel gol Perché la partita era ancora in bilico Mancavano meno minuti Quindi secondo me è stato più importante Quel gol là Al di là di quello che può anche sembrare Vista anche la situazione in classifica Vedo ancora una squadra Che cerca molto la vittoria Che comunque è ancora molto un gruppo La vittoria sembra ancora pesare molto Sì sinceramente sono molto felice di questo Anche a me in parte mi sorprende Sono molto felice Che comunque tutti Stiano impegnando ancora al massimo E sembrano interessare Il fatto che in classifica Ormai conta poco Ma danno sempre il massimo E comunque si esulta per le vittorie Quindi mi piace E adesso possiamo richiamare Antimo E andare in chiusura Ragazzi come sempre Vi ricordiamo di iscrivervi al canale E attivare la campanellina Siamo quasi A 100.000 iscritti Mi raccomando Iscrivetevi È importantissimo per noi Fatevi sentire con il vostro supporto Non ce la facciamo A raggiungere 100.000 E non ce la facciamo Siamo ancora a fermi da un po' A questi 92-93.000 iscritti Insomma ragazzi Fatevi sentire Anche tra l'altro con il mi piace Cerchiamo di raggiungere 5.000 Per questo episodio Della serie B di Fuzzle E come sempre Tantissimi commenti Al quale risponderemo Settimana prossima Giovedì prossimo Con il prossimo video Della serie B di Fuzzle Ciao ragazzi Ciao ragazzi